vi preso la zanzara allora cos'è che ti imbarazza maggiormente Maurizio posto che ci sia qualcosa nel rapporto con le donne no guarda da un punto salute Maurizio grazie da un punto di vista di salute Maurizio grazie direi proprio no il problema imbarazzante può essere se hai una giustificata ansia da prestazione ah beh certo può essere giustificato se lei tu supponi ti ha tradito è che mi è preso un attacco allergico tira un po' di ventaccio però bisogna sopportare per andare avanti grazie ragazzi andiamo avanti mi chiedo scusa perché vinceremo la nostra battaglia un po' di pazienza ma stando in mezzo a un freddo qui siamo a meno tre gradi succede anche questo ma noi abbiamo la tempo forte e andiamo avanti viva l'Italia grazie a tutti grazie a tutti